Partiamo davanti Io vorrei L'uomini Chiaro ragazzi Yes Yes 5,6,7,8,9 Noi! Fatti male! Su un giotto! No, 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 no Stop! E' immagino, è un po' il volto grosso. Ritornate nel gioco, c'è un'idea di mercato, c'è un'idea di legate, bravissima. A noi piace scommettere in fondo, quindi se tu prendi una domenica mattina alle 9 e ti fai questa domanda, perché dovrei uscire a muovermi e fare attività fisica, quando potrei stare bellamente a dormire sotto le coperte, o meglio sotto le lenzuola, visto che oggi è una bellissima giornata. E allora la sfida è questa qua, è quella di dare appuntamento a delle persone che vogliono respirare dell'aria pulita, vogliono divertirsi, vogliono stare in mezzo alla natura, ridere insieme e iniziare a passare mezz'ora della loro giornata in una situazione di piacevolezza. Questa è la sfida. Perché noi non riusciamo a far muovere le persone? Perché chiediamo a loro di pensare a domani in una maniera tale per cui non riescono a farlo se ci pensano oggi. Noi chiediamo di investire il loro futuro e quando si pensa di futuro si pensa a una cosa che non esiste. Invece abbiamo voluto pensare di far alzare le persone alle 9 e mezzo di mattina e dimostrare a loro che ci si può divertire e si può investire mezz'ora del nostro tempo a fare una cosa che ci fa bene, che fa bene al nostro cuore, che fa bene ai nostri muscoli, che fa bene soprattutto al nostro cuore in generale, alle nostre emozioni, alla nostra gioia. Quello che noi abbiamo, pensiamo di averlo sempre. Tutte le persone che sono in salute, nel momento in cui si ammalano, hanno un problema, non hanno mai pensato che questa cosa gli potesse capitare. Quindi il fatto di cogliere questo momento è l'espressione della gioia migliore per noi e riuscire a condividerlo è una gioia ancora più grande. Allora è un investimento che puoi cominciare a fare da oggi. Domenica mattina, 11, guarda la mamma che si allena col bambino, quant'è bella! Ciao! Buona domenica, eh! Ciao! 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 Grazie a tutti.